Sindaco, in barba comunque alle classifiche che vedono, alle statistiche che vedono Napoli comunque un po' più sicura. Nella notte c'è stato un agguado al rione Triano dove è stato ucciso un 39enne a colpi di arma da fuoco. Le periferie invocano maggiore sicurezza? Il tema di cui abbiamo parlato adesso, pensate che io domani ho un ulteriore comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica dove ho fatto mettere all'ordine del giorno un tema che abbiamo già discusso diverse volte negli ultimi giorni che è San Giovanni, così come c'è il rione Triano, così come c'è il vasto, l'impegno delle forze dell'ordine è importante, l'impegno di tutte le istituzioni della città è importante, la coperta è corta, quindi se vogliamo veramente far fare un salto di qualità nella prevenzione dei reati, nell'individuazione dei responsabili c'è bisogno di rafforzare gli organici e quindi c'è bisogno di più forze di polizia. Questo il sindaco lo dice non solo, e lo dico non solo perché è una mia convinzione, perché raccolgo quelle che sono le esigenze vere, i bisogni, che magari non tutti lo possono dire con la stessa forza con cui lo dico io, ma di notte non ci sono le pattuglie a sufficienza, a Napoli come evidentemente in altre città, gli organici sono ridotti, le risorse economiche sono poche, i mezzi certe volte non sono all'altezza, l'età media aumenta, non si fanno concorsi, allora se questo è il governo del cambiamento c'è da vedere quale sarà il cambiamento, se in questo comparto si vuole avere un cambiamento in positivo si rafforzino gli organici e sono convinto che anche i delitti e in questo caso gli omicidi andranno sensibilmente a diminuire. Siamo su questa linea ormai consolidati da tempo, io sono molto soddisfatto che Napoli in questo momento scala tutte le classifiche nonostante i problemi per qualità della cultura e presenze turistiche, evidentemente a Napoli si ha anche la percezione per ritornare alle domande che mi avete fatto prima della sicurezza, altrimenti non credo che tanta gente verrebbe nella nostra città e tantissimi turisti mi dicono che la percezione a Napoli è di una città più sicura rispetto ad altre città e un altro dato che ci ha colpito molto è sempre di più la città maggiormente richiesta per le visite scolastiche da tutta Italia e io mi immagino quando ci sono le riflessioni e i dibattiti che si fanno nelle scuole, le persone hanno cura di tutto ma la cosa che è più cara sono i figli, evidentemente se c'è la condivisione di mandare tanti bambini in gira scolastica la nostra città vuol dire che Napoli, grazie alle forze lordi, alla magistratura, ai napoletani nella loro stragrande maggioranza all'amministrazione comunale, insomma a questa città si sta facendo tanto anche in termini di sicurezza i fronti sono tanti però siamo impegnati ogni giorno